Viva la Salsiccia! La Salsiccia ormai fa parte della tradizione della storia di Aragona, questa sagra si ripete da ben 29 anni, questa è la 29esima edizione e da 4 anni ormai, precisamente dal 2011 da quando ci siamo gemellati con il comune di Laluvierre è l'occasione per ritrovarci invitando la delegazione del comune di Laluvierre e avere qui sul nostro territorio tantissimi emigrati aragonesi. che vivono del comune di Laluvierre nel Belgio, per noi ormai è una tradizione importantissima e diventa un momento in cui davvero celebriamo quelli che sono i valori del gemellaggio. Al taglio del nastro della sagra della Salsiccia ha partecipato anche il sindaco del comune belga di Laluvierre, Jacques Gobert, gemellato con Aragona ed i rappresentanti dell'associazione UFSEF, Salvatore Arnone, presidente e Sebastiano Greco, componente. Ad Aragona per la sagra della salsiccia ma anche per un momento che celebra un gemellaggio, cosa significa questo per voi? E' un momento storico perché qui ci sono tante persone che conoscono Laluvierre, tante famiglie che hanno parenti a Laluvierre. A Laluvierre ci sono quasi 6.000 abitanti sulle 80.000 che sono di origine di Aragona, dunque questo gemellaggio, assenza tra le due città, è veramente un bel progetto. Per noi dell'USSEF è soprattutto un momento dove si culmina un po' questi incontri che si fanno con il gemellaggio ed è una cosa molto importante, noi l'abbiamo voluto fortemente questo gemellaggio e siamo molto contenti che oggi siamo ancora qua. Siamo già venuti altre volte con i comuni Laluvierre e l'USSEF e siamo ancora qua e speriamo che ci sia una continuità ma molto 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 lunga. Cosa rappresenta l'USSEF? L'USSEF per me, originario di Aragona in particolare, era il modo per riuscire ad aggregare tutti i siciliani che abitano all'estero e cercare sempre di riunirli e farli divertire insieme. E allo stesso tempo non dimenticare le proprie origini e coinvolgere la propria cultura con la cultura belga, cercare di scegliere il meglio delle due culture e aggregarceli e appadolirceli noi stessi. Apprezzamento anche per gli amministratori locali che hanno tanto fatto per la buona riuscita della festa. La Sagra della Salsiccia per noi è una grande tradizione nell'ambito del territorio comunale aragonese, perché è una tradizione che si tramanda negli anni e accoglie nell'ambito territoriale, proprio in questa serata della Sagra, molte persone provenienti da tutti i paesi del circondario agrigentino e non. È la ventinovesima Sagra che Aragona propone al suo territorio, alla sua gente, ma vediamo il riscontro anche da parte di altre comunità, non soltanto aragonesi, addirittura abbiamo la presenza anche di cittadini belgi. Grazie a tutti.